Riapertura con una notizione, insomma, Draft FCB Italia, tra l'altro, con una partnership con Golin Arris. Quindi entrate nel mercato del real-time marketing, del social media praticamente, e di tutto quello che è disintermediazione, approfondimento praticamente delle nuove logiche del comunicare. Sì, assolutamente sì. Questo è un bellissimo momento per noi, perché siamo rientrati dalle vacanze carichi e abbiamo questa notizia bellissima che è l'apertura di Golin Arris Italia. Questo è un progetto che è nato dalla volontà nostra di andare a presidiare un'area che è quella del social media marketing e del real-time marketing in maniera professionale, puntuale e globale. Per farciò abbiamo cominciato circa sei mesi fa a fare uno scouting all'interno di tutte le aziende del gruppo IPG che facessero questi servizi e che non fossero già presenti in Italia e devo dire che rapidamente abbiamo trovato una sinergia pazzesca e una chimica pazzesca con i colleghi di Golin Arris. Abbiamo cominciato a lavorare nel progetto e oggi partiamo con questa nuova avventura che per noi è strategica perché ci permette di ampliare o di far diventare più profonda l'offerta di servizi nell'ambito delle social media, arricchendola con tutta la tematica del real-time marketing che è una properties specifica di Golin Arris. Questo lo faremo con un approccio che sfrutterà molto le sinergie con i nostri colleghi londinesi, lo faremo e l'abbiamo fatto mettendo a capo della direzione creativa di Golin Arris, Nicola Rovetta che lascia la direzione creativa di Draft FCB per concentrarsi su questo importantissimo progetto. Ecco non ti chiedo nuovo direttore creativo perché so che lo annuncerete, per ora nulla. Sì, io che mantengo la carica, la leadership del progetto è mia e di Franco, Franco avrà la carica di presidente Draft FCB e Golin Arris e io manterrò la carica di chief growth officer di Draft FCB e in più avrò la carica di managing director di Golin Arris per tutte le relazioni internazionali. Per quanto riguarda il nuovo direttore creativo di Draft FCB, a breve conto che saremo in grado di darvi il nome della nuova persona, per noi è strategico anche quello, anzi è molto strategico, stiamo lavorandoci, però era molto importante dare un segnale forte per questo nuovo progetto, mettendo immediatamente a capo di questa nuova unit Golin Arris Italia del reparto creativo una persona di grande esperienza, e abbiamo deciso di farlo con Nicola. Questo per noi è un motivo di grande orgoglio ed è altresì un motivo di forza e del fatto che noi crediamo moltissimo in questo progetto. Il network Golin Arris è un network che approfondisce più che allargare, ci è convinto che la qualità sia l'approfondimento anche nella sua diffusione dei paesi, non a caso la presenza in India e la presenza in Italia che si reputa un mercato interessante. Ma quanto il nostro mercato è pronto? Insomma, in real time marketing per sua natura implica una forte collaborazione cliente-agenzia, anche la capacità del cliente di decidere poi in real time cosa fare e sul momento. Pensi che riuscirete ad educarlo? Perché ancora non sono molte le aziende, non so quanto valga questo mercato da noi. Sì, tutto corretto quello che dici. Devo dire la verità, noi abbiamo avuto modo di approfondire molto bene con i nostri colleghi inglesi il modello e credo che si possa fare un grande lavoro in Italia mixando da una parte il tema della grande collaborazione, della partnership con il cliente e dall'altra parte facendo un po' opera di education con il cliente. L'offerta del mercato italiano oggi da questo punto di vista non è così strutturata. Noi portiamo sul campo una metodologia che è The Bridge, che ormai è consolidata a livello di network, Gollinalis da più di due anni, anzi credo siano tre quasi. La cosa interessante è che sfruttando questa metodologia siamo in grado di portare un expertise, un modus operandi e una modalità di approccio e di collaborazione con il cliente già consolidata, già sperimentata. È una piattaforma proprietaria nata in collaborazione con Cisco. Assolutamente, questa è una cosa molto importante. La piattaforma di Real Time, che è proprietaria di Gollinalis, nasce ed è in continua evoluzione con la collaborazione con Cisco, è una piattaforma molto performante che adesso noi porteremo a regime sul mercato italiano tra la fine dell'anno, ma che è in continua evoluzione e che ci metterà nelle condizioni di poter offrire ai nostri clienti servizi nuovi in maniera costante. Infatti, questa partnership, per concludere, non si fonda sulla necessità di qualche cliente che avevate, oppure è estero, di avere questo tipo di servizio, ma è proprio una partnership di visione. Quali che, insomma, questi sono i vantaggi di appartenere a un network internazionale, sfruttare queste cose, anche a livello di aver creare poi una cultura in un mercato dove magari ancora non è così presente? Assolutamente sì. Quello che crediamo sia il motivo più interessante di questo nuovo progetto è che nasce non dalla necessità specifica di dover seguire un cliente, quindi ho il cliente e dobbiamo aprire l'agenzia, cosa che tra l'altro se arriva a noi fa solo che piacere e io sono convinto che arriverà anche, spero, in tempi non molto lunghi. Dall'altra parte, invece, crediamo che sia veramente importante in questo caso far leva sulla grande esperienza, sulla metodologia, sulla capacità e sul fatto che noi lavoreremo sempre di più e stiamo sempre di più lavorando a livello, perlomeno, di mercato europeo, perché, come tu mi insegni, le dimensioni delle agenzie comunque devono essere controllate. Il mercato è un mercato molto fluido che necessita di competenze specifiche che cambiano ogni giorno e che ogni giorno devono essere aggiornate. Quindi noi stiamo valutando con i nostri colleghi, e devo dire che Londra lo sta già facendo in maniera strutturata con gli altri uffici europei, forme di collaborazione su progetti, che è, come dicevi tu, l'elemento fondante dell'appartenenza di un network dal mio punto di vista. È la vera differenza, gli altri questo, a parte i nostri colleghi che fanno parte degli altri network, non lo possono mettere in campo e noi vogliamo metterlo in campo.